Si chiama luoghi d'incanto Parabiglia 2023 il Natale speciale di Parabita che dal 15 dicembre offrirà un'esperienza natalizia speciale a tutti i suoi visitatori bastere indossare una cuffia senza fili per immergersi in un'esperienza natalizia a tutto tondo fatta di musica, tecnologia, racconti, luci, boschi magici quello di Parabita è l'unico Natale immersivo del Salento capace di regalare un'esperienza veramente unica e particolare luoghi d'incanto sarà visitabile il 15, 16, 17 dicembre e ancora 22, 23, 26, 30 dicembre e 6 gennaio dalle 19 alle 22 e 30 il 24 dicembre invece sarà la volta della consegna dei doni di Babbo Natale abbiamo organizzato qualcosa di diverso quest'anno abbiamo voluto dare un'offerta differente rispetto alle tante belle piazze salentine che stanno pensando al Natale tradizionale questo è un Natale tutto nuovo, è il Natale che abbiamo voluto chiamare immersivo è un Natale anche tecnologico oltre a un Natale fatto di tradizioni delle tante attività che i bambini e le famiglie conoscono già però c'è tanta tecnologia, ci sono questi tunnel immersivi c'è una cuffia che si indossa all'inizio del nostro percorso e ci accompagna in un percorso fatato tante luci, tanti alberi allestiti, spazi food la casa di Babbo Natale, l'immancabile casa di Babbo Natale ma anche tantissime altre attività che stiamo facendo anche quelle sorprese di questo luogo di incanto Parabidia 2023, il Natale è acqua a Parabida Ci sono anche delle situazioni tridimensionali sembrerà che la neve cadrà proprio su Parabida Sì, i tunnel immersivi vogliono proprio dare questa sensazione insomma, li abbiamo chiamati tunnel perché permettono al visitatore di entrare in uno scenario che è tutto incantato è tutto fantastico e lì si vedranno alcune cose che ovviamente adesso non sveleremo C'è stata tanta collaborazione proprio perché il centro storico poi necessita di forza maggiore non essendo del tutto abitato quindi è una comunità che si è unita Indubbiamente, noi senza il lavoro dei tantissimi volontari di Parabita non avremmo potuto mettere su questa edizione del Natale Parabitano che è veramente un'edizione unica e incredibile tanto lavoro fatto fino alle 12 di notte, tutti i giorni qui volontari, persone che hanno preso a cuore questa edizione del Natale di Parabita il Natale appunto visto con gli occhi dei bambini il Natale di Parabiglia e il Natale della fantasia Sono davvero tante le attività in programma nel centro storico di Parabita si parte con l'esperienza magica del Natale immersivo indossando le cuffie messe a disposizione dei visitatori si vivrà un percorso fatto di musica, racconti, luci e tunnel tecnologici si camminerà sotto il gettido dolce di Natale ci si imbatterà nella Piazza delle Stelle visitando il percorso allestito nel centro storico ci si potrà imbattere poi nella casa di Babbo Natale in un set fotografico per bambini nei grandi presepi allestiti in corti e piazze e negli angoli gastronomici da venerdì 15 fino al 6 di gennaio ci saranno otto date nelle quali ci saranno tutta una serie di attività appunto tanti spettacoli anche per gli adulti ma ovviamente anche e soprattutto per i bambini quindi ce n'è veramente per tutti i gusti quindi un invito soprattutto a chi ci segue da fuori Parabita perché i Parabitani avranno in questi giorni avuto modo già di adocchiare e si sono già incuriositi però venite a Parabita qualcosa di veramente nuovo noi aspettiamo tutti a braccia aperte appunto non solo i Parabitani tutti i Salentini e io dico non anche soltanto i Salentini perché le sorprese sono veramente tante in questo Natale Parabitano Grazie a tutti Grazie a tutti